Volete guadagnare la vita della classifica? Nessun problema, basta pagare. E pare che sia quello che hanno fatto alcuni alberghi riminesi, che si sono rivolti ad una fantomatica agenzia di consulenza che propone recensioni a pagamento per conquistare posizioni su siti specializzati. La tariffa, 500 euro per un pacchetto di tre recensioni, 3.000 euro invece per ottenerne 10. Intanto l'associazione albergatore di Rimini è stata già tempestata di telefonate. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e richieste di chiarimenti dai nostri associati, conferma il presidente Patrizia Rinaldis. Da tempo segnaliamo il problema delle false recensioni. Quest'ultima proposta dice ha dell'incredibile, se ne sta occupando anche il nazionale. Nella mail di offerta inviata dall'agenzia che sta facendo il giro della riviera, già intercettata anche in altre importanti destinazioni turistiche italiane, come per esempio Venezia, si legge. Con solo 5 posizioni positive si sale su siti come TripAdvisor in maniera sostanziale con un immediato aumento dei clienti. Già la presentazione non è delle migliori nemmeno l'italiano. I costi sono una tantum, le recensioni arriveranno online per sempre, risultati garantiti, assicura il mittente. Ormai il consenso via web vale oro e ci sono sempre più persone che prima di scegliere un albergo oppure un ristorante danno prima un'occhiata, magari veloce, ai commenti lasciati dai precedenti clienti. Da questo l'idea di creare un business oppure una truffa, ma questo andrà verificato nelle sedi opportune.